Buongiorno sposini, sono Sara e vi do il benvenuto su Nozzeggiando. Ed eccomi qua dopo questa breve pausa estiva, come promesso a settembre, sono di nuovo online con i miei video. E questo video è proprio per chiedervi se avete delle richieste in particolare sui prossimi tutorial. Ho chiesto già su Facebook se avevate qualche preferenza, sono iniziando a raccogliere i vostri commenti, quindi potete lasciare un commentino qui sotto con le vostre richieste oppure andare sulla mia pagina Facebook Nozzeggiando, trovate il link nell'info box e lasciare un commentino. Sulla pagina Facebook magari potete postare anche qualche foto di qualche invito che avete visto in rete, che vorreste riprodurre ma non sapete bene come fare. Quindi tutte le richieste che avete, sia sulle partecipazioni, segna posto, coordinati, una delle richieste che mi è arrivata ad esempio è su come abbinare i vari colori, quindi tutto quello che vi viene in mente che riguarda le nozze e gli inviti, potete richiederlo con un commentino qui sotto o di nuovo vi ricordo nella pagina Facebook. I tutorial riprenderanno da giovedì 17 settembre, quindi per tutte le novità, per stare sempre aggiornate ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere like a questo video e di iscrivervi anche alla pagina Facebook. Ci vediamo prestissimo, ciao! Se andiamo a realizzare un libretto per la cerimonia civile potremo andare ad inserire all'interno delle letture, magari delle poesie e il libretto comunque riporterà lo svolgimento della cerimonia. Mentre invece per quanto riguarda il libretto messo...